raga oggi faremo un bag con carlo quindi andiamo subito in gioco ok raga siamo in gioco e volevo dirvi che praticamente praticamente quando hanno fatto il coso come si chiama fino alla fine stagione mi è arrivata questa schermata qua quindi secondo voi quella schermata che vi faccio vedere cosa significa io ho detto 17 stellari ma perché c'è forse non ho capito perché io c'evevo tre brawler beh anche questo vado qua ci ho perso una partita in verità anche ci leggevo al grado 20 500 c'evevo e non mi ha dato nessun che si chiamano nessun punto stellare invece ho 500 ma non la data di bull cioè al 20 e pure leon boh non lo so ditemelo nei commenti se non so se era un bug o qualcosa a proposito di bug oggi quindi andiamo a mettere il nostro carletto che siamo in gioco qua e andiamo a fare questo bug allora questo bug fa solo per le amichevoli però potete invitarli amici di un amico che vuole farlo tocca prendere brock con l'abilità stellare mettere quella del quarto razzo andare su brawler fare così seleziona gioco velocemente vi faremo velocissimi perché se no non fa il bug quindi brock abilità stellare allora carl seleziona e gioca velocissimamente e questo bambino non ci è venuto quindi non è venuto dal primo tentativo perché ci vuole di essere proprio velocissimo quindi brock seleziona abilità quarto razzo seleziona carl seleziona gioca non so se ha fatto vediamo un po' mi sa di no al che non ha fatto perché è stato un po' lento ma ragazzi ha fatto come vedete ha quattro sacchette e guardate un po' uno due piccoli due piccoli lancia e hopì due piccoli fa tipo due due tre mila di danno fa tre mila di danno mi sa perché fammi guardate boom boom è una bomba ma non è forte ma forse si conf sleeping e scompigevo anche電ario nel fortissima ma neppure punto una curiosità ma se noi usiamo la super con carline si annulla vabbè a parte questo noi abbiamo due piccoli due piccoli quindi tipo uno c'è può sedere uno di quale di qua facciamo uno due E l'abbiamo colpito Quindi facciamo uno, due Ok, devo ricaricare subito L'abilità La super E comunque, ragazzi Una bomba, proprio una bomba Una e due C'ho già visto che c'è spuglia Tipo qua Non c'è niente Ma dove sono? Oh, sti bot però Sono un po' intelligente Mamma mia, così tanto Allora qua Guarda C'è, gli mi spaccati proprio Bene Per questo video Mi raccomando lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale e ci vediamo con la visione Ciao 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 Grazie a tutti